Tutto pronto a Sciacca per la sesta edizione dello Slalom Sciacca Terme Memorial Pasquale Tacci, che si terrà domani a partire dalle ore 9 su un percorso cittadino che culminerà sul Monte Cronio. La manifestazione è stata organizzata dalla Sciacca Corse e dal team Palichè e si svolgerà su tre masche di gara. Lo Slalom è valido per il trofeo italiano Slalom, Coppa Slalom Quinta Zona, Trofeo d'Italia Sud, Campionato Siciliano e Challenge Palichè. Come detto, nei giorni scorsi per l'evento sportivo si è registrato un record di iscritti. Saranno infatti ben 118 i piloti al via, tra cui ovviamente molti saccensi. Alla sesta edizione dello Slalom tutti i migliori piloti di Sciacca saranno in gara per conquistare il titolo come miglior pilota locale. Il premio verrà attribuito al tempo sommato più veloce, calcolando la somma dei tempi tra le masche previste. Cambiamo sport. Il tennis club Sciacca è in finale di promozione sui difficili campi in erba sintetica di Messina, domani mattina alle 10 per la storica promozione nel campionato in D1 della neosocietà saccenze, che in soli dieci mesi di attività si è già imposta a livello tennistico regionale. La finale con gare di andata e ritorno contro il Blue Garden Messina. La partita di ritorno è in programma Sciacca, domenica 23 giugno alle ore 10. E si svolgerà sempre domani al Palazzetto dello Sport di Melilli anche il campionato regionale Trofeo Coni 2019, specialità cumité esordienti, valido come selezione per la partecipazione alla finale nazionale, che si svolgerà a settembre in Calabria. La Ippon Karate Lentini di Sciacca è il capitanata dai tecnici Pietro e Marco Lentini, che accompagneranno i seguenti atleti, Emma Colletti, Giorgia Giaimo, Giuseppe Napoli, Liborio Dazzo, Cristian Stocco, Maurizio Aiello, Giuseppe Gigiotta, Francesco Cicero e Cristian Gulino. Grazie. 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 Grazie.